Stavi usando ChatGPT e ti piaceva un sacco. Poi, per questione del garante della privacy, dati presi da ChatGPT senza avvisare gli utenti, non lo puoi più usare in Italia. Ora, in questo video, io ti do una soluzione super 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 semplice e soprattutto gratuita, che ci piace un sacco, per usare adesso, in Italia, ChatGPT. Allora, guarda il mio schermo. In questo momento io faccio una ricerca ChatGPT, ok, con il mio browser in questo momento è Safari, sono su Mac, provo a fare ChatGPT, una ricerca, e lui giustamente mi dice accesso a ChatGPT disabilitato per gli utenti in Italia. Che fare? Non lo usiamo più? C'è una soluzione gratuita e super semplice. Quale? guarda qui. Scarica il browser Opera. Sì, sono sicuro che ne hai sempre sentito parlare, probabilmente non l'ha mai utilizzato. Utilizza il browser Opera. Perché? Perché ha una VPN inclusa, gratuita. Quindi, guarda il mio schermo. Questo è Opera. Ovviamente non ti faccio vedere come scaricarlo perché è semplicissimo. Digita Opera, fai il download per il tuo sistema operativo, lo installi. Nel momento in cui l'hai installato, vai in impostazioni qui in basso a sinistra, clicchi e in automatico, in riservatezza funzionalità, ecco, in funzionalità attivi la VPN. Ecco qua. Ti basta semplicemente cliccare questa casellina, dopodiché guarda che cosa succede. Apro una schermata, faccio una ricerca ChatGPT. Ok, accetto. Introducing ChatGPT. Guarda un po'. Ecco a te, ChatGPT. Ta-da! ChatGPT funziona. Ok? Quindi puoi tranquillamente utilizzarlo grazie a un browser Opera che ti dà una VPN integrata, gratuitamente. Ok? Ciao.